Su proposta dell'assessora ai giovani Chiara Marciani, il Consiglio Comunale ha approvato la Costituzione del Forum dei Giovani del Comune di Napoli e il relativo statuto in attuazione della Carta Europea per la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Sono molto contenta che finalmente oggi sia stato approvato questo primo passo, l'approvazione dello statuto del Forum dei Giovani, uno strumento che darà la possibilità a tanti giovani della nostra città di un'età compresa tra i 16 e i 35 anni di poter partecipare attivamente non solo alle tematiche che riguardano i giovani ma visto che il nostro approccio è lavorare non solo per i giovani ma con i giovani vorremmo appunto che i giovani possano dare la loro opinione in maniera trasversale su quelle che sono le strategie della nostra amministrazione. Il Forum potrà esprimere proposte e pareri agli organi elettivi comunali, a sua volta il Comune provvederà ad assicurare una sede attrezzata al Forum. Adesso inizia il bello perché dobbiamo raccogliere le candidature di tutti coloro che vorranno far parte di questo Forum e naturalmente poi ci dovrà essere la vera e propria campagna elettorale per coinvolgere il numero più grande possibile di giovani elettori della nostra città.